Benvenuti a tutti ragazzi qui in The Gamer 91 Signori e oggi continuiamo la serie World Truth su Spider-Man di Insonnia Games Nello scorso episodio siamo stati sfrattati e abbiamo recuperato il nostro materiale per fortuna E in questo episodio incontreremo qualcuno Adesso andiamo a vedere l'epilogo missioni Allora, missioni Appostamenti Una chiamata ad una persona misteriosa Ti prego, fa che non sia chi penso Chi sarà questa persona misteriosa? Lo scopriremo in questo capitolo ragazzi Ma prima di iniziare la missione ragazzi Vi ricordo a chi ancora non è iscritto di iscriversi Di spuntare la campanellina così non perdete nessun video Di spolliciare questo bellissimo video, questa serie che merita un sacco E se vi va di commentare Lo so ragazzi, sarò ripetitivo Ma mi serve ragazzi per crescere come tutti voi Bene Direi di iniziare Andiamo 452 E qua vicino Chi sarà questa persona misteriosa? Speriamo non sia un cattivo Anche se ho idea di chi potrebbe essere Secondo me nel trailer si vedeva una con i cappelli argentati Secondo me è lei Però vediamo Catwoman ragazzi Black Cat Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaliggiare Mi aveva promesso di cambiare vita Black Cat sarebbe Catwoman credo, no? Boh Che cosa stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? Vuole che noti qualcosa Devo osservare meglio Ok, facciamo lo zoom Quando si colora di verde Deve esserci un indizio Quando si colora di verde Cos'è? Ragazzi Allora Devo cercare Quando si colora di verde Ok, no Qua Dove? Boh ragazzi Sto cercando Ma non trovo niente Questo non è Il murales non è Spide Qualcosa deve aver nascosto Aspetta Spiders Are my Mia Che sia quello No, perché L'ho zoomato E non Non me lo trovo Due finestre qua Non sono niente Eh, ma ragazzi Dov'è? Credo che ci sarà un piccolo taglio Per vedere Dov'è Eccolo lì Eccolo lì Trovato Trovato Soggetto inquadrato Cos'è? Un gatto Uno dei suoi gatti Prima li imbottisce di amplificatori di portata Poi cattura segnali a radiofrequenza Chiederò a Yuri di recuperarlo Boh Felicia è troppo astuta Per esporsi in questo modo Deve essere in difficoltà Terrò gli occhi aperti Completa gli appostamenti Blackout in città Per svolare il mistero Premise per continuare Andiamo un po' Allora Proviamo a andare a uno di questi Per curiosità Poi facciamo l'altra missione Ehi Yuri Hai ancora costume e armi di Black Cat Nel deposito delle prove? Penso di sì Perché? È tornata? Forse Controlla e fammi sapere Se il suo equipaggiamento È ancora lì Certo Ok Andiamo un po' Attenzione È tardi Che succede? Dovevamo cenare insieme Questa sera? Oh È vero Scusa L'avevo dimenticato È stata una giornatazza Il laboratorio ha perso i fondi Oh Peter Mi dispiace Non solo Mi hanno anche Ecco Dato lo sfratto Cosa? Hai un posto dove dormire stanotte? In effetti No Non ce l'ho Senti Odio chiederlo Ma non avresti un letto al rifugio? Ma certo Puoi usare il divano nel mio ufficio Grazie mille Ok ragazzi Quindi andremo a dormire da zia Mei Eh beh Ah ma questo è un altro Ah ok È un altro Allora ciccia Salta Bene ragazzi Direi di andare direttamente al Al Da zia Mei Allora Credevo che la missione Era incontrare questa persona Ma evidentemente Non è così Andiamo da zia Mei Ok Siamo quasi arrivati Ok Ok 200 Eccoci qua Siamo arrivati Fatto veloce A tutte le unità Ok 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 Eccoci qua Arrivati Ah no Non è alla casa Ho sbagliato ragazzi Non è alla casa di Merigè Di zia Mei Scusate È al rifugio È al rifugio Al fist appunto Ha bisogno di dormire Peter Allora Andiamo sopra Ok Siamo quasi arrivati Ragazzi Grandissimo Grandissimo Questo posto Eccoci qua Arrivati Beh spero che il divano Sia comodo Cos'è sono? Ah è Sembravo un idiota Beh attraversiamo tutti Quella fase Sì adoravo i cavalli Come tutti i bambini Sia Mei Dovrebbe toglierne qualcuna È imbarazzante Mi ricordi di Di Peter Ah zio Ben Mi manchi Zio Ben Ben Parker Colui che gli disse Da grandi poteri Derivano grandi responsabilità Ricordalo sempre Peter Ok Mi sa che ora Della nanna Se Vediamo che succede Gli ha lasciato i soldi Io non posso accettarli Io non posso accettarli E invece sì che puoi Te li restituirò Appena posso Chiedimili la prossima volta Sei proprio il nipote Di tuo zio Devi imparare ad accantonare L'orgoglio dei Parker E accettare di essere umano Come tutti i nomi Martin Scusate l'interruzione Volevo solo avvisarti Che lascerò la città Dovrei sostituirmi tu Certo Conta su di me Quanto tempo starei via Ancora non lo so Va tutto bene Signor Lee Solo impegni personali Che avevo pianificato Da tempo Beh Abbi cura di questo posto Questo tizio è Sospetto La mia parte migliore Questo tizio è sospetto Spero che Martin Stia bene Parliamo con Zia May Sicura che il denaro Non ti serva Sicurissima Il lavoro qui Non mi lascia Molto tempo per spendere Quello che ho È sufficiente Ok Credo che dobbiamo uscire Sì Ehi Visto il mio articolo Sicuro Scommetto che Robby Sarà entusiasta Sì è diventato virale E senti questa Il sindaco Osborne Ha annunciato che oggi Consegnerà un incombio All'agente Davis Wow Aspetta Il comizio di Osborne È oggi Ah Ora capisco Cosa ha in mente Sì È chiaro a tutti Ma resta un gran momento Per l'agente Davis E la sua famiglia Io seguo l'evento Per il giornale Vieni con me Sì volentieri A dopo Ok ragazzi Abbiamo trovato la missione Senza tetto sui tetti Vediamo adesso Come si chiama la missione Allora Senza tetto sui tetti Mi spiace Ma devo passare Le notte nell'ufficio No questa non è un'altra cosa Allora è quello di prima appunto Vediamo un po' Dobbiamo raggiungere Mary Jane Forse Comunque quel Martin lì Quel Martin lì Non me la racconta giusta Mattina ragazzi Completato È così umiliante Ricevere denaro Dazio a me Dovrei andare in città E cercare di sdebitarmi Espra la città Per potenziare Equiplegiamento Abilità Nuova missione secondaria Beh le missioni secondarie Le farò Più in là Mi sa che dobbiamo fare Un crimine Per Per sbloccare un po' Appunto Le missioni nuove Ok Facciamo questa Che è qua vicino Sono i demoni Demoni che rapinano un blindato Non credo che il demon Sì Un altro messaggio di dopo Ok 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 Boom Ok Ok Non vedo l'ora che sia finita. Mi sbaventa più un discorso di cosi con il furgone pieno di demoni armati, ma non chiediamo per questo. Che succede? Ho scoperto che i demoni stanno per attaccare un cantiere di fischi in centro. Mia moglie mi ammazza se salto in caldo e divido la cerimonia per giocare a guardia e ladri, ma ho pensato che il mio caro partner volesse saperlo. Ricevuto. Faccio un salto e ti ho aperto se scopro qualcosa. Ascolta, un consiglio per parlare in pubblico. Immagina che siano tutti in mutante. Cioè, magari non Osborn. Aspetta, sai cosa? Lascia perdere. Allora, intanto abbiamo fatto fuori questi demoni mentre sentivamo le notizie del poliziotto. Eccoci qua, l'ultima goccia. La nuova missione. Allora. I demoni hanno preso di mira un cantiere edile di fischi. Potrebbe essere la mia occasione per eliminare una volta per tutte. Andiamo ragazzi. Quanto è distante la missione? Adesso lo vediamo subito. Ammazza. 1150... 100... 100 cose, 100 metri. Anzi no, facciamo una cosa. Possiamo usare i punti veloci. Se è più veloce questo. Andiamo qua allora. Tieni qua e poi trasferiti qua. Vediamo come funzionano. Vediamo come funzionano. Oddio. Ho usato la metro e c'era uno vestito da Spider-Man. Figata. Ok ragazzi, siamo molto vicini dal punto. 200 metri appunto. Così appunto facciamo gli spostamenti veloci e non c'è bisogno di tagliare. Ok. Fisk Construction. Ok, dobbiamo seguire... no. Ah, questa parte l'ho vista. L'ho vista in una demo. Allora, vediamo quanti sono, eh. Ok. Ho sbagliato... Ho sbagliato tasto. Oh, mannaggia, ho sbagliato tasto. Allora... Eh, non mi fa andare lì. Ok. Adesso posso farlo fuori. Ok. Avevo sbagliato tasto, ragazzi. Volevo attirarlo verso di qua. Ok, lì ce ne sono due, qua. Ok, uno è qua. Boom. Li facciamo fuori tutti silenziosamente. Ok. Ok. Fate tutti fuori ragazzi Allora A modo dobbiamo andare Andiamo di là Avete ciò che volevate Vi prego lasciateci andare Il territorio di Fisk è nostro ora Io non credo Ci pensa Spidey Boom Oh Boom Oddio Dai che sono pochi Ok Boom Boom Fatto fuori Ok Chi sarà mai? Oh Che bella tuta Ti sfina Aspetta i demoni Chi è il loro capo? Salva i miei uomini E forse te lo dirò Devo salvare cattivi Da altri cattivi La vita è piena di sorprese Noo ragazzi Bellissima sta parte Boom Boom Oddio Che è? Oh madonna Adesso mi hanno notato Oddio Ah Ok Ok Cambiamo gadget Andiamo con questo Ah non si può Boom Boom Allora Meglio passare da fuori Per cercare gli uomini di Fisk Ok Dai ce la facciamo No Devo passare Sopra Ok 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 Madonna Quanti sono Ok Boom Ok Boom Boom Bellissima questa Dai Dai Stiamo fallendo un colpo Restate qui e aspettate la polizia Ok Dobbiamo andare sopra Devo trovare i sopravvissuti Ok Ok Boom Fatti un bel volo Ok Dai ragazzi Per adesso sta andando tutto bene Allora Facciamo fuori Boom 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 Ok Questo È boom Di nuovo Ora Ora Ok Devevo andare sopra Ora Ok Ok Boom Boom Per favore Prende 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 Ok ragazzi controlliamo sul tetto chi sarà questo nemico lo scopriremo adesso Ok ragazzi andiamo sopra il tetto Vediamo un po' cosa c'è Andiamo sopra il tetto Vediamo il nemico Oddio ragazzi Oddio Dai Peter dai Spidey Oddio Madonna Emo Ok 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 Dai dai ce la facciamo Ce la facciamo Doviamo inseguirlo Sì quella faccenda dei demoni è complicata Tranquilla Yuri fidati di me Dai ragazzi bisogna fare veloce Oddio Oddio guardate come spacca l'ambientazione Dai ragazzi Dai ragazzi devo farvi veloce mi sa eh Dai ce la facciamo Allora aumentiamo la velocità Madonna Madonna Ok Ora Oddio ragazzi che anzietta Oddio 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 Che figata ragazzi Madonna Boom E' il volo per Newark Mi spiace signore ma deve accostare l'elicottero Boom Boom Devo bloccare i motori dell'elicottero Ok Boom Boom No dai 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 boom dai ragazzi dai ragazzi Lo ho vista sta scena l'ho vista E' mo' Oddio la coda Sì Oddio E mo? Oddio Boom Spider-Man ragazzi In azione abbiamo salvato la città Mamma mia ragazzi è spettacolare Queste maschere sono stupende Dove le prendete? Grazie Le trovo su internet Ehi Yuri Ho preso i cattivoni Ma cosa? Ti conviene portare una scala Ehi nice Ehi fanboy Accidenti è tardi Miles dove sei? No vado al municipio per la cerimonia di papà Ah giusto Fagli i miei complimenti Chi è questo? Sto arrivando Boh Non so chi sia L'ultimo Completato MJ La cerimonia è già iniziata Stanno allestendo il palco Tu dove sei? Contrattempo al lavoro Arrivo Ok ragazzi Che episodio bomba Bellissimo episodio Quello credo L'ultimo ragazzi che abbiamo visto Credo che sia il figlio di Martin Lee Lo scopriremo nel prossimo episodio Abbiamo sventato Un bel colpo di questi demoni appunto Abbiamo salvato Ci siamo alleati per qualche secondo Con Wilson Fisk E insomma è stato un episodio Veramente bello Che dire ragazzuoli Spero Che il video vi sia piaciuto Ovviamente Lasciate dei bei like Per farmelo capire Commentate E se vi va Condividetelo Bene ragazzi Per questo video è tutto Io vi saluto Al prossimo video Stay tuned Stay angel Ciao